Tutto pronto per il porto di Castellammare per il secondo stralcio. Lavori che inizieranno a giorni, dureranno circa un anno. L'impegno di spesa è di circa 15 milioni di euro. Si effettueranno opere di banchinaggio. Inoltre sarà anche messo in sicurezza il costone in alto al molo. Adesso ci si avvia verso la conclusione per il porto di Castellammare per la sua messa in sicurezza per una questione anche abbastanza controversa e duratura nel tempo. È una storia amministrativamente molto complicata alla quale stiamo cercando di porre riparo con un impegno diretto e attento. Stiamo sbloccando i lavori del secondo stralcio che valgono circa 15 milioni di euro. Qualche giorno fa abbiamo autorizzato la somma urgenza per la messa in sicurezza del costone che è sopra il porto. Un piccolo lavoro però importante, 260 mila euro. L'altra parte che è stata investita da molte complicazioni amministrative che riguarda invece il primo stralcio. Una parte i soldi sono stati già spesi, un'altra parte devono essere spesi. Il finanziamento è completo. E se non fosse completo siamo pronti ad intervenire. Abbiamo una programmazione sui porti in Sicilia con i fondi europei e i fondi del patto per il sud. Castellammare è una priorità assoluta. Il scompletamento di questo porto è un impegno dell'amministrazione del governo regionale. La sollevazione costante dell'onorevole Turano non ci fanno distrarre. Speriamo finalmente che questa vicenda annosa, complicata, una specchia di metafora delle difficoltà. Abbiamo il dovere di migliorare queste immagini facendo le cose in modo più trasparente e più rigoroso perché ogni sospetto sia eliminato e tutto si sia fatto in modo trasparente, chiaro, nell'indice dei cittadini. E così sarà fatto a Castellammare. La crescita di Castellammare comincia quando arriva Ryanair, quindi siamo al sesto anno. Certo, chi viene qua si innamora di questo posto e poi ritorna volentieri. Io sono molto contento della crescita di questo territorio, ancora c'è tanto da fare, ma mettere in sicurezza il porto, fare avviare i lavori del secondo stall, cioè finire quelli del primo, significa dare una prospettiva, secondo me, centenaria a questo territorio. Con il prossimo cantiere che comincerà i primi di settembre i tempi saranno rapidi per la realizzazione e prima del prossimo anno certamente anche il primo lotto ripartirà. Il Genio Civile ha rescisso il contratto con la vecchia ditta, i problemi che ha causato questa ditta sono sotto gli occhi di tutti, non solo per il ritardo, ma per la vicenda giudiziaria sulla quale noi non dobbiamo dire nulla se non prendere atto di quello che è successo. Si aspetta soltanto un solo parere e poi sarà fatta la nuova gara. Mi sono preoccupato, chiedendo all'assessore Pistorio che voglio ringraziare, di verificare non solo la copertura finanziaria, ma qualora ve ne fosse bisogno di avere soldi in bilancio per finire certamente i lavori. Da qui a poco partiranno pure i lavori per il depuratore, insomma, dentro il porto di Castellammare l'amministrazione statale e regionale stanno spendendo quasi 100 milioni di euro. Quando l'onore Turano abbiamo assicurato al Castellammare del Golfo, a questo territorio, che il porto noi superate le difficoltà che sono di pese, come abbiamo ricordato, da una vicenda giudiziaria grave, dalle inefficienze dell'impresa, di un ritardo insopportabile, perché questi sono finanziamenti che partono nel 2005. È un tempo allucinante. Vediamo nella revisione progettuale quanto serve. Ci sono 11 milioni, a me risultano 11 milioni, che sono disponibili, che sono ancora disponibili. Se servisse, integreremo, perché le risorse ci sono, perché è una priorità importante.